Benvenuti nel mondo degli orologi Cerruti. Il marchio Cerruti è sinonimo di eleganza e stile italiano. Fondata nel 1967 da Nino Cerruti, l'azienda ha iniziato la sua attività nel settore tessile, producendo abbigliamento maschile di alta qualità e tessuti pregiati. Negli anni Ottanta, il marchio Cerruti si è espanso in nuovi settori, tra cui profumi, occhiali da sole, valigeria e orologi. La linea di orologi Cerruti è caratterizzata da un design elegante e moderno, con dettagli sofisticati e materiali di alta qualità. Gli orologi Cerruti sono disponibili in diverse collezioni, tra cui 1881 e Craigslist. La collezione 1881 di Cerruti prende il nome dall'anno di fondazione del marchio e rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Gli orologi di questa collezione presentano un design minimalista e raffinato, con cassa in acciaio inossidabile e cinturino in pelle o acciaio. Alcuni modelli sono dotati di complicazioni, come il cronografo o il calendario. La collezione Craigslist di Cerruti, invece, si ispira allo stile contemporaneo e urbano delle grandi città. Gli orologi di questa collezione presentano un design più audace e sportivo, con cassa in acciaio o PV di nero e cinturino in pelle o silicone. Anche in questa collezione sono presenti modelli con complicazioni, come il cronografo o il GMT. La qualità e l'attenzione ai dettagli sono il marchio di fabbrica degli orologi Cerruti. Ogni modello viene controllato con scrupolo prima di essere messo in commercio, per garantire la massima precisione e affidabilità. In conclusione, il marchio Cerruti rappresenta l'eleganza e lo stile italiano nel mondo della moda e dell'orologeria. Gli orologi Cerruti sono sinonimo di qualità, attenzione ai dettagli e design sofisticato, adatti sia per chi cerca un orologio da indossare tutti i giorni sia per chi vuole distinguersi con un accessorio esclusivo e di classe. Gli orologi Cerruti è un'attività, attenzione ai dettagli e affidabilità. Gli orologi Cerruti è un'attività.